In Bulgaria, come membro della Commissione Speciale Contro il Cancro, si è regalato una giornata di caccia in una riserva privata. Poi lo scatto accanto a un esemplare maschio di danno adulto che aveva appena abbattuto, lo ha postato sui social ed è scoppiata la polemica. Protagonista Pietro Fiocchi, eurodeputato in forza a Fratelli d'Italia. Centinaia di commenti, molte critiche e anche minacce di morte, tanto da spingere Fiocchi a presentare denuncia. Sono orgoglioso di andare a caccia e di rispettarne le regole, dice Fiocchi. L'attività venatoria è una passione che annovera milioni di cacciatori in tutto il mondo. Per praticarla è necessario innanzitutto avere la fedina penale pulita, superare accurate visite mediche e soprattutto esami selettivi. La Bulgaria è piena di Covid, chissà, magari c'è giustizia divina. Prova ad andare in Afghanistan a fare il bullo col fucile, alcune delle frasi postate in rete sotto lo scatto incriminato. E c'è anche chi, pur non condannando la caccia, suggerisce che forse quella foto consegnata ai social poteva essere evitata. Io non ho nulla di cui pentirmi né giustificarmi. Sono orgoglioso di essere cacciatore e di appartenere ad una famiglia di cacciatori da cinque generazioni. Saranno invece coloro che mi hanno infamato e minacciato a doversi pentire. La replica di Fiocchi che aggiunge ero in Bulgaria per il lavoro che stiamo facendo per la lotta ai tumori. 3 milioni di morti di cancro in meno entro 2030, l'obiettivo di questo però nessuno ha parlato.